Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Darkchaos92 e oggi sono qui per dirvi una cosa molto importante Sapete quando andate in tutti i canali e incominciate a vedere Oh V-Bucks gratis, oh V-Bucks gratis Vabbè, quello che photoshoppa i V-Bucks per far vedere che comunque ha trovato un glitch nei V-Bucks per prenderli gratuiti Quell'altro che mette il contest e scrive nel titolo V-Bucks gratis e bla 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 Io invece vi dico una bella cosa, statemi da ascoltare, fidatevi Chi di voi ha Salva il mondo? Praticamente Salva il mondo è una, come si suol dire, campagna Un'avventura che voi iniziate o da soli o anche in compagnia di nuove persone che non neanche conoscete Non potete neanche parlarci Bene, Salva il mondo vi dà l'opportunità di essere acquistato alla fatidica somma di 40€ Quindi 39,99€, il pacchetto normale Dopo un po' che incominciate a giocare vi renderete conto che prenderete molti V-Bucks E poi io ho speso 40€ all'inizio del gioco, comunque quando usci E ovviamente io già sono arrivato a prendere 7000 V-Bucks Che sarebbero 70€ Ops, ma il gioco non costava 40? Ed ecco qui che entra in ballo una cosa molto molto bello Sì, perché come voi non sapete ragazzi Su Salva il mondo potrete fare più di 20.000 V-Bucks Cosa vi sto dicendo? Sì, più di 20.000 V-Bucks Perché io, io stesso, ho scoperto che dei miei amici Sono arrivati a completare tutto il Salva il mondo con tutte le missioni E pensate un po' che oltre i 20.000 V-Bucks Giornalmente potrete prendere una ricompensa gratuita E non sapete quanti V-Bucks danno Ecco ad un mio amico, ragazzi, purtroppo non ho gli screen Però fidatevi che è la verità, non avrei motivo di spararvi cavolate A un mio amico, nelle sfide giornaliere, sì Nelle ricompense giornaliere di Salva il mondo Ha trovato 500 V-Bucks Un'altra volta ne ha trovati 300, altri 150 e così via Andando avanti, andando avanti Per molte volte Io stesso ho trovato 300 V-Bucks Comunque ragazzi, state tranquilli Perché se spendete i primi 40 euro per comprarvi Salva il mondo Io non so adesso quanto sta Salva il mondo Io lo comprai molto tempo fa Quando uscì a 40 euro Quindi se comprate il gioco di Salva il mondo Vi dà più di 4.000 V-Bucks Quindi arrivando a 20.000 V-Bucks Srebbero 200 euro, ragazzi, 20.000 V-Bucks Quindi ai 20.000 V-Bucks andrete ancora più su Io non so Io sono, allora Ho la certezza, al 100% Che a 20.000 V-Bucks ci arrivate sicuri Sicuri Perché c'è un amico mio che già li ha superati i 20.000 V-Bucks E non vi dico altro Voi dovrete vedere solo quello che volete vedere voi Comprate Salva il mondo E con Salva il mondo, ragazzi Arriverete ad ottenere più di 20.000 V-Bucks Ve lo posso assicurare io Provateci Comprate Salva il mondo Cercate di finirlo tutto Tra tutte le missioni di Salva il mondo E tra tutte le ricompense giornaliere Poi ritornerete qui nel mio video E mi direte Dark, avevi ragione Con un like, una condivisione E mi raccomando, ragazzi Tutti attivi nel mio canale Perché molte persone lo stanno facendo Io vi ringrazio per questo Un bacione caloroso dal vostro Dark House 92 E mi raccomando, ragazzi Attivi Peace Woo-ha!